Ammiraglio Pietro Giuseppe Vella, questa mattina a Torre del Greco un momento importante per l'autorità della Capitaneria di Porto che si vede rinnovata la concessione dei locali da parte dell'amministrazione comunale. Sì, è un momento importante che sancisce una collaborazione forte, solida tra l'amministrazione comunale, io direi il territorio di Torre del Greco e la guardia costiera di Torre del Greco, la guardia costiera regionale che qui rappresento. È un momento importante anche per la professionalità, le professionalità che ci sono sul territorio, che sono quasi tutte a vocazione marittima. Torre del Greco, secondo comparto della marineria d'Italia, una città di antichissima tradizione marinara, una realtà veramente attiva nel settore marittimo. Sì, confermo, è una realtà importante, storicamente parlando, ma continua a esserlo anche nel presente e nel futuro. Per noi come autorità marittima è importante avere una sede, una sede efficiente dove poter svolgere nel miglior modo possibile le nostre attività istituzionali. Ringraziamo quindi l'amministrazione comunale per aver confermato fermamente questa disponibilità in una realtà così legata alle tradizioni marittime quale Torre del Greco. Torre del Greco è un compartimento marittimo che, sebbene sia piccolo come giurisdizione territoriale, estendendosi dal comune di San Giorgio a Cremano fino a quello di Torre Annunziata escluso, quindi investendo appena 12 chilometri di costa. Però mi piace comunque sottolineare che non sono 12 chilometri ma sono 12 mila metri di uomini, di anime e che hanno una forte vocazione per quella che è la tradizione marittima. Quindi il connubio con l'amministrazione comunale che ci permette di restare per un periodo ancora così lungo qui nella sede dei mulini, per noi è un elemento importante con naturalmente il nostro massimo impegno per garantire un servizio all'utenza marittima torrese di massima efficacia e di massima efficienza. Sindaco Giovanni Palomba, l'amministrazione comunale fermamente riconferma la convenzione con l'organo di Capitaneria di Porto per la concessione dei locali. Sì, noi non vogliamo come amministrazione comunale che nessun ufficio, in particolar modo la Capitaneria di Porto, vada via. Ringrazio quelli che sono stati i nostri dirigenti, il comandante Giovannone, per dar sì che questa realtà rimanga nel territorio di Torre del Greco, anche per tutti i marittimi che ne hanno bisogno, per la gente di mare. Quindi è stato veramente, e oggi c'è anche l'ammiraglio, per firmare questa convenzione che durerà nove anni e più altri nove.